Ed è arrivata proprio lontano Francesca Michelin da quando appena 16 anni vinse l'edizione 2011 di X-Factor. Oggi il talento bassanese della musica pop italiana è tornata ad esibirsi dopo oltre tre anni nella sua città, sul palco del Grifone Shopping Center. Le cose in tre anni sono cambiate tanto? Beh sì perché penso di essere cresciuta sia personalmente che musicalmente e quindi diciamo che in questo album c'è questo cambiamento. Francesca è tornata a casa per presentare il suo album Di Venti. Dopo tanti duetti, vere e proprie hit come quelle con il rapper Fedez, 11 brani che raccontano Francesca. Beh sono tanto felice, mi sento a casa ed è bello anche rivedere un po' tutte le facce che conosco e festeggiare con loro questo traguardo importante che però spero sia anche un nuovo punto di partenza. I bassanese ti aspettano per un concerto? Beh allora lo faremo. Nella primavera del 2016 è previsto un tour quindi magari ci scappa anche Bassano. E domani ancora grande musica al Grifone. Alle 17 arriverà Nicolo Agliardi autore della colonna sonora della serie TV Braccialetti Rosso.